Gentilissimo amico, ho testè concluso l'opera su cui tanto mi sono profuso, li misi addietro e... E spero di potervela mostrare al più presto per avere un vostro parere in merito, ma... Ma già lo so che il mio nuovo sito punto cloud spacca di brutto. Ecco l'indirizzo, fammi sapere, ciao! NuovoDominio.cloud, la tecnologia cambia i domini pure. Fa solo 99 centesimi all'anno.